Se la vita vi è ossessiva, vivetela in progressiva! Siamo pronti? In console come sempre lui, l'imperatore, l'unico grande e solo, un urlo per lui, Max Ricci DJ! Questa sera ospite d'eccezione dall'Exo Groove, il fuori orario d'Italia, la contessa Pinina Garavaglia! E chi non balla è perduto! L'epifania, la commerciale si porta via! Ci piace la commerciale? Non vi abbiamo sentito! Ci piace la commerciale? E questa è la musica del Cyborg, le espressioni del nostro Max Ricci, accompagnate dalla nostra animazione! Una sola stasera, la Space Baby, Rossella! Il nostro Andrea Mnemonic, più Cyborg che mai! E Dulcis in fundo, la romana, Capitolina, Maga Monique! Battere le mani, il popolo del Cyborg! Fate tremare questa sala! Fateci cadere il tetto sulla testa! Fateci sentire che per noi è sempre Natale! Non esistono i lunedì, non esistono i martedì, non esistono i mercoledì, e nei giovedì, e tantomeno i venerdì! Esiste solo il sabato! E il sabato ha un solo nome! CYBORG! 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 che star sul nostro palco c'è con noi la patina rossa SULAI! Grazie a tutti E anche il nostro Roberto 1996, nuovo slogan Scende, scende e poi ti prende Dopo vediamo se siete preparati Ragazzi ragazzi Allora siamo in diretta su Radio Company Su discoteche d'Italia Facciamo sentire il Cyborg Grazie a tutti Grazie a tutti Alle luci come sempre c'è solo lui Il Corvo Il nostro spazio scatenato La mano è un'epoca di acquistar La mano è un'epoca che è piaciuto La mano è un'epoca di acquistar Il Corvo d'Italia La mano è un'epoca di acquistar Sogna, sognare, volare Piacciare, questo è il nostro scopo del sabato sera Un saluto alle nostre sexy girls del bar Carla e Lucilla, no drinks, no sex, yeah With us, the music evolution from the sick mind and ill mind of the man Mister, Max, Max Ricci, DJ Capitolino No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In questo mondo dove tutto è sofferenza, poche gioie e un solo posto, un solo paradiso, un solo Eden per dannati peccatori, angeli e demoni. Grazie a tutti. E su queste note contorte e distorte, io vi ricordo che siamo sempre su Discoteca d'Italia di Radio Company. Ci sente tutta Italia, ci sente tutta Italia. E allora a tutta Italia che dicono che la capitale si sa divertire poco, questo è l'urlo della capitale per la nostra Italia. La nostra povera Rossella senza la sua amichetta Arianna. E allora le Space Babies sono le altro baby, altro baby Rossella. Right place, right music, right man, right women. Grazie a tutti. 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 Si vedono dei cubi super affollati, il cubo centrale, i cubi di destra e di sinistra. Un saluto ai nostri amici cubisti. E un saluto a tutti gli amici che hanno gli occhiali da sole questa sera. Quanti si è da avere gli occhiali questa sera? Ma più di tutti io voglio salutare i miei concittadini, compatrioti, connazionali, cotifosi della grande, mitica, unica, magica Roma. E Roma batte le mani e Roma fa cadere la sala. E Roma ci uccide e lo facciamo sentire a Radio Company. Non smettere, vai! Attenzione perché adesso si cambia Radio Company, questa è la capitale d'Italia. Roma, fatti sentire, uno, due, tre, via! Wow ragazzi, wow ragazzi! Fatevi un applauso, fatevelo perché siete grandi! E Roma, fatti sentire, due, tre, via! E Roma, fatti sentire, due, tre. E Roma, fatti sentire, due, tre. E Roma, fatti sentire,entioni, Ost Grazie a tutti. 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 Piccola ma pepatissima, Maga Monique. Grazie a tutti. Rossella, l'astro baby, è pervertito come il demonio, c'è solo lui, Robertone. Ma più di tutti, onirico, incredibile, esoterico, mitologico, stupendo, eccezionale, sensuale, erotico, che ispira sesso, è solo lui, Max Ricci DJ. E il nostro teatro, il teatro dei dannati di questa musica progressiva si chiama Cyborg. Grazie a tutti. 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 Max Ricci. Cyborg. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E suoni e colori in un unico viaggio che si chiama Cyborg. Grazie a tutti. 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 Arde. Grazie a tutti. 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 Un saluto speciale. Aroma eterna, vibrante, vibrante e penetrante, come un sogno delirante, come un sogno delirante, vibrante e penetrante, vibrante e penetrante è la musica mentale. Ritmo mentale, mentale, orgasmo cerebrale. Orgasmo cerebrale, è il ritmo della mente, più potente e resistente, è il ritmo della mente, più potente e resistente, più potente e resistente. Ritmo mentale Angeli e demoni, angeli e demoni, in questo grande teatro, beato e dannato. Cyborg, 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 cyborg. cresce, 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 rivolle e sale questa è l'onda musicale cresce, rivolle e sale questa è l'onda musicale nessuno ti può fermare con le tue ali devi volare in alto, in alto, in alto in un cielo nero con le stelle nel tuo pensiero questo è il ritmo che mi prende, vai va bene, va bene è l'onda musicale è l'onda musicale è l'onda musicale è l'onda musicale vado in alto, volo via l'ho visto, l'ho sentito, l'ho toccato il cielo con un dito l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho toccato, l'ho sentito, ho visto il cielo, l'ho toccato con un dito, ci sono arrivato molto vicino ci sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un nome eterno che non svanisce via, cresce, adrenalina. Igenia mentale! Igenia mentale! Cresce, cresce, ribolle e sale, questa è l'onda musicale! Vai, Volk! Dove sei? Verso il settimo cielo, verso il settimo cielo, l'ho visto, l'ho toccato, l'ho sentito, l'ho toccato il cielo con un dito! Allacciate le cinture di sicurezza! E' partenza un missile nel cielo! Un missile volava nello spazio siderale, una luce boreale! Profonda in un buco nero, universo del mistero, universo del mistero! Un missile volava nello spazio sidero! In partenza verso il settimo cielo L'ho visto, l'ho toccato, l'ho sentito Ho toccato il cielo con un dito, il cielo con un dito In alto, in alto, in alto con un dito L'ho toccato e l'ho sentito Cyborg, Cyborg E' un'unione, è in partenza Un treno per Amsterdam Amsterdam, Berlino New York, Londra, Berlino, Berlino Nelle tenebre E' un viaggio spaziale, siderale, cyborg, robotico Noi siamo un fiume in piena Noi siamo un fiume in piena Fate il rumore, fate il rumore, fate il rumore, fate il rumore Un saluto speciale a tutti i ragazzi del Cyborg Un saluto speciale a Roma eterna Vibrante, vibrante, penetrante Come un sogno delirante Come un sogno delirante Vibrante, penetrante Vibrante, penetrante E' la musica mentale Ritmo mentale, mentale Orgasmo cerebrale Orgasmo cerebrale E' il ritmo della mente Più potente e resistente E' il ritmo della mente Più potente e resistente Più potente e resistente La cuoca Angeli e demoni, angeli e demoni In questo grande teatro, beato e dannato Cyborg, 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 cyborg E' un missile spaziale, è un missile spaziale Che vola nel mistero, che vola nel mistero Cresce, cresce, cresce Cresce, rivolle e sale, questa è l'onda musicale Nessuno ti può fermare, con le tue ali devi volare In alto, in alto, in alto in un cielo nero Con le stelle nel tuo pensiero Questo è il ritmo che mi prende Vai Va bene, va bene Voi un alto, in alto, in alto Grazie a tutti. 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 Progressione ad alta tensione. Progressione. Alta tensione. Fatti sentire cyborg. Tutti insieme, tutti insieme, fate rumore, fatti rumore, fatti sentire, fatti vedere, fatti sentire, fatti vedere. Cyborg. Perché? Perché noi siamo un fiume, perché noi siamo un fiume in piena che tutto porta via, noi siamo un grande fuoco che arde, che arde ovunque sia. Lascia, lascia il tuo cuore battere, lascia il tuo cuore battere con noi in sintonia. Grazie a tutti. Libera la tua mente, libera la tua mente, libera il tuo cuore. Ritmo mentale. Ritmo mentale, orgasmo cerebrale. È il tuo cuore battere con noi in sintonia. È il ritmo della mente. È il ritmo della mente più potente e resistente. È il potere della tua mente. È il tuo cuore battere con noi in sintonia. Nessuno ci può fermare. Tensione. 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 Allora ci conduce in questo viaggio, Interplanetario Max Ricci, a bordo di un'astronave speciale. messaggio 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 cerebrale comunicazione messaggio